Su Radio DJ, è arrivata in studio Roberta Lippi. Ciao Roby, come stai? Molto bene, grazie. Dicevo, amici dei tempi di MTV. Eh, da una vita. Eh, da una vita. Ah, da prima, tu non te lo ricordi. Prima cosa abbiamo fatto? No, devo parlare della concorrenza. Un'altra radio. Oddio, no, aspetta, aspetta, no, di, vabbè, dai, tanto le radio sono quelle. Un radio che viene in zona Paolo Sarpi. Ah, kiss kiss. Ah, è vero, è vero, è vero. È vero, dove tutto è cominciato, dove tutto è cominciato. Come stai, Roby, tutto bene? Bene, dai, bene. Stavo raccontando ai nostri ascoltatori che ti abbiamo chiamato perché abbiamo sentito recentemente questo podcast che in realtà noi siamo arrivati un po' lunghi, siamo arrivati un po' in ritardo su Baby Gang. Quando l'avete realizzato? È andato online nella primavera del 2023, quindi ci abbiamo lavorato più o meno con l'inverno e l'inizio di quell'anno lì, però diciamo che i temi sono purtroppo molto attuali. Non scade, ecco. Ancora una cosa, ancora ieri vedevo video di persone che, tornando dalla stazione centrale a Milano, dicevano che avevano problemi a tornare a casa, paura a tornare a casa, che sì, un po' è vero, però insomma, raccontami tu, qual è la situazione delle Baby Gang in Italia? Quanto sono presenti? Guarda, non è molto invariata, se non probabilmente ancora in crescita rispetto a quando noi abbiamo iniziato a lavorarci, perché il fenomeno si è diffuso in un modo un po' diverso da quello che era la nostra percezione qualche anno fa. Prima un po' ce ne siamo disinteressati perché ci sembrava che si menassero, che rapinassero, che accoltellassero soltanto alcune Baby Gang, cioè la dico proprio brutalmente, quelle di ragazzini stranieri che quindi si prendevano, facevano queste scorribande tra di loro. Il problema è iniziato a interessarci soltanto quando siamo diventati noi le vittime. Il fatto è questo, che non sta migliorando e sta peggiorando perché non abbiamo, a mio parere, insomma non sono unica a dirlo, accettato di guardare le motivazioni dietro alla delinquenza di questi ragazzi. E abbiamo invece fatto i genitori cattivi, cioè anche il nostro Stato ha deciso di applicare nuove norme molto restrittive che dovrebbero in teoria punire di più l'aggressore, ma non vanno mai a comprendere perché questa ragazzina ha iniziato a delinquere. Direi che è dal 2020 che dovremmo interrogarci su questo aspetto, tu anche che sei padre lo sai, cosa ha significato chiudere i ragazzini in casa per due anni? Soprattutto quei ragazzini e ragazzine, perché questo fenomeno si sta espandendo anche tra le baby gang femminili che esistono, sono stati privati di un pezzo della loro infanzia e adolescenza. Io mi ricordo quando avevo 13, 14 anni, 15, io volevo uscire, dovevo anche sbagliare. Invece noi non gli abbiamo permesso di fare più nulla, loro sono stati quelli che sono rimasti reclusi più a lungo, perché mentre noi andavamo a un certo punto ancora in ufficio, loro erano sempre in dad. E questa è una cosa che oggi anche le forze dell'ordine stanno iniziando a prendere in considerazione, gli psicologi già da un po', ma finché non affrontiamo questo argomento, cioè perché c'è questa rabbia sociale, non ne veniamo a capo. Sì, allora è difficile, io anticipo già, senza guardare lo schermo, anticipo già gente che dice sì ma a me che cosa me ne frega se tu hai la rabbia, devi comportarti bene, però hai perfettamente ragione anche tu. Io credo che sia un po' un misto di queste due cose, da un lato la certezza di una pena può essere un deterrente, dall'altro, soprattutto quando si parla di stranieri, se non sono integrati non hanno, non so come dire, è molto probabile che non abbiano neanche la volontà di comportarsi bene, perché non si sentono rappresentati da niente. Immaginate di non avere niente che vi rappresenti e a quel punto perché esce un po' fuori, non so, l'istinto, quella cosa che tutti gli esseri umani hanno dentro e che cercano di limitare perché sanno che ci si compone. Non so, è una questione un po'... Questo è il punto, ho detto proprio bene, cioè quello che noi abbiamo cercato di con noi, perché è stato un lavoro di team, anche difficile, perché chiaramente trovare anche le testimonianze, volendo fare un lavoro a 360 gradi, cioè partire dalle vittime, anche di violenze molto gravi, e arrivare poi a parlare con un ex componente di una baby gang. Ed è questo che è emerso, che c'è in alcuni casi proprio una mancanza di integrazione, che porta... Questo non vuol dire che il reato che è stato fatto è meno grave, il reato è grave comunque, il reato è unito lo stesso e severamente anche. Però quello che ti viene detto è, io voglio somigliare a qualcuno che io non sono e non capisco perché io non sono quella, perché a me non viene data la possibilità di essere come quest'altra persona. Quindi tendenzialmente quello che vedi quando ci sono queste aggressioni è sempre questo, è sempre qualcuno che è diverso da te. Quindi è qualcuno su cui tu hai un potere, o vuoi avere un potere, quindi è il ragazzino che ti ruba le scarpe perché vuole il simbolo di quella cosa che lui non può avere. Le Jordan in questo momento sono il simbolo di benessere e quindi se io non le posso avere te le prendo. Abito in periferia, i miei genitori non se lo possono permettere, sono in una situazione di grande disagio sociale, il gruppo mi aiuta a sentirmi più forte, ti veniamo a rubare le scarpe. Dall'altra parte c'è, perché bisogna dirlo, non c'è solo il disagio sociale, c'è anche una parte di baby ganger, chiamolo così, che arrivano da famiglie molto benestanti. Noi si dice, quando parliamo, sono annoiati, no non sono annoiati in realtà. Lì c'è proprio una rabbia che sfocia in violenza perché tu vai a prendere il controllo su qualcosa che ritieni essere inferiore a te. Se pensi ad esempio con chi te la prendi, con chi te la prendono, col barbone per strada, con la vecchietta, col professore che ti ha messo la nota troppe volte. E quindi c'è sempre questa volontà di riuscire a darti un'identità. Il gruppo, per questo lavoro, si muovono in gruppo, il gruppo ti dà un'identità che tu non riesci a formarti da un'altra parte. Quindi o non ce l'hai dalla famiglia o non ti arriva dalla scuola. E chiaramente quando pensiamo ai bambini, questi sono gli ambiti in cui si formano. Per quello poi dovendo fare una riflessione a più ampio spettro, è lì che dovremmo andare a lavorare. Però tu hai ragione, cioè comunque i crimini aumentano e chiaramente poi dobbiamo fare i conti con questo. Hai intervistato nel podcast, io ho ascoltato le prime quattro puntate delle vittime. Adesso andiamo a parlare di quello perché hai trovato delle persone molto molto lucide, nonostante quello che gli è successo. E quello che gli è successo è veramente molto molto grave. Allora, il racconto delle vittime magari me lo tengo per dopo perché adesso stiamo per andare in pubblicità. Quindi non avremmo il tempo di fare un po' un racconto esaustivo. C'è il tema della giovanissima età di questi ragazzi che diventa un po' uno scudo, no? In alcuni casi anche per loro. È uno scudo e è una scusa perché loro sono perfettamente consapevoli. Quando arrivano a delinquere a livelli abbastanza alti o comunque frequentemente, loro sanno che non possono essere arrestati. E quindi chiaramente questo per loro è una sorta di immunità. E addirittura nelle storie ci sono momenti in cui loro lo dicono espressamente, cioè agiscono contro l'adulto o contro il ragazzino dicendo tanto non mi succede niente perché sono minorenne. Storicamente vengono assoldati dalle associazioni criminali anche proprio per quello perché non possono essere arrestati. E questa cosa qua come pensi da quello che hai capito? C'è una possibilità di risolverla? In realtà no, perché quando ho parlato con le forze dell'ordine loro mi hanno spiegato che addirittura non riescono a incriminarli per associazione a delinquere. Perché intanto è difficile comprenderla, nel senso che non c'è mai, anche se all'interno poi se vuoi ne parleremo c'è una sorta di gerarchia, ma una gerarchia che si danno loro, no? Non si riesce a strutturare il discorso relativo al gruppo. Questo gruppo agisce per delinquere, no? A volte è molto randomico, abbastanza anche anarchico, pur avendo le gerarchie all'interno, è istintivo. E dall'altra parte proprio non lo puoi fare con i minorenni, tu non li puoi incriminare per associazione a delinquere, non riescono a fare questo, quindi possono incriminarli soltanto quando però sono minorenni che hanno superato una certa fascia d'età. Noi adesso parliamo di undicenni, dodicenni, tredicenni, chiaramente lì il discorso cambia, sono bambini, quindi lì proprio non è che esiste il carcere minorile infantile, non so come dirti. Quindi lì proprio loro sono davvero immuni. C'è anche una sorta di... io abito vicino a una piazza che soprattutto nel weekend davvero si riempie di ragazzini. C'è una sorta di emulazione anche stilistica che per tutto quello che senti le prime volte andavo e dicevo Madonna, qua bisogna fare attenzione ad andare in librerie e tornare a casa perché... In realtà il 90% sono proprio dei bravi bagai, come si dice a Milano, che però, ma questo mi ricordo lo facevamo anche noi da piccoli, assumono le sembianze delle baby gang. Per fortuna la maggior parte poi appunto ne prendono soltanto il modo di vestire. Milano sta peggiorando da questo punto di vista, l'Italia in generale sta peggiorando da questo punto di vista perché poi vai a vedere i dati e ti dicono in realtà oggi succedono molti meno crimini di... per esempio della fine degli anni 90 o anche dei primi del 2000. Però la pressione mediatica che sentiamo ti fa aver paura di tutto. Esatto, è la scelta dei mass media di darci delle informazioni soltanto di un certo tipo. Se tu ci pensi, quando d'estate sembra che vengano tutti uccisi, no? Sì. È perché manca un pezzo di informazione politica e quindi i giornali si riempiono di informazioni legate alla coranca nera. E quando bisogna creare una sorta di ansia nella gente, vengono anche strumentalizzate queste notizie. Quindi se adesso è il momento di parlare delle baby gang e farci aver paura delle baby gang, ha le che arrivano. C'è un podcast che si chiama Baby Gang, lo trovate insomma su tutte le piattaforme, anche noi l'abbiamo ascoltato recentemente. Ti dicevo, io ho ascoltato le prime quattro puntate, nelle prime hai parlato con vittime di baby gang molto lucide, hai trovato persone veramente molto equilibrate nel raccontare quello che gli è successo, nonostante quello che gli è successo è veramente grave. Partiamo da una mamma di Napoli che ha dovuto affrontare il percorso del figlio, accoltellato per strada da una baby gang, a due ragazzi che stavano facendo la loro vita nella loro casa nuova, presa con tutti gli sforzi del caso, eccetera, eccetera. Sfortuna vuole che vanno ad abitare sotto una piazzetta frequentata da ragazzi di gang. Ci riassumi un po' quello che è successo in queste due prime puntate? Sì, guarda, allora la mia prima storia è la storia di questa donna e di suo figlio, si chiama Maria Luisa Iavarone, e perché è così equilibrata? Perché lei è anche una importante docente all'università di pedagogia, e quindi chiaramente quando suo figlio viene accoltellato, chiaramente nel dolore di dover affrontare tutta la situazione, poi Arturo sopravviverà, lei si pone subito il problema di capire perché questi ragazzi delinquono, e quindi in questo senso c'è questo equilibrio, che però lì non mi ha sorpreso tanto, perché lei appunto fa quello di lavoro. Mi ha sorpreso di più invece nella puntata che dici tu dei due ragazzi della provincia di Como, che poi, un mini spoiler, tanto non è un podcast che non necessita spoiler, però loro arrivano addirittura a cambiare casa alla fine, talmente sono disperati, ricevono minacce di morte addirittura. Ciò nonostante, perché se ricevesse minacce di morte, insomma non sarebbe forse così accondiscendente con il carnefice, questa ragazza si interroga moltissimo sul perché questi giovani si sono ritrovati in queste condizioni e decide di fare la sua tesi di laurea su questo tema, anche lei, e quindi hanno mostrato tutti una sorta di lucidità che secondo me ha fatto sì che anche io venissi portata in quella direzione, cioè come le vittime mi dicono questo e io chi sono per andare a puntare il dito contro questi ragazzini. Andiamo a capire davvero perché succede questo. Ti dirò di più, c'è un altro episodio, che mi sembra essere il quinto, nel quale sono raccolte dei bait e di altre testimonianze, e anche lì c'è un famoso caso di cronaca di una libraia di Piacenza, che viene minacciata più volte e anche lei dice però io devo capire chi c'è a casa di questi ragazzi. Quindi io su questo vorrei fare interrogare un po' anche chi ci ascolta, cioè il discorso è ok, valutiamo il dato di partenza, valutiamo la cronaca, dopodiché prendiamoci anche la nostra responsabilità sociale, cioè noi abitiamo queste città, noi abitiamo questo Stato, e allora facciamo la nostra parte. Non dico che io e te dobbiamo scendere in piazza e andare a educare questi ragazzini, però forse dalla nostra parte c'è il divulgare la possibilità che qualcun altro che ha quel compito lo faccia. Quindi prima parlavamo dell'aspetto più punitivo, no, ora che va mantenuto, chiaramente anche diciamo, vabbè mi ha coltellato, fa niente, adesso capisco perché, magari il poverino ha avuto un trauma infantile, no. Però siccome il fenomeno è diventato sociale, impone una presa di posizione che ha a che fare con tutta la società, quindi le forze dell'ordine, la scuola, le famiglie ovviamente, ma soprattutto le scuole devono essere messe nelle condizioni. Parlevamo anche di pandemia prima, tu pensa che si è stabilito che ci debbano essere, ci dovessero essere degli psicologi in classe dopo quegli anni? Io non so, perché non ho figli, quanti ne siano arrivati e soprattutto quelli che sono arrivati so che hanno delle liste attese terribilmente lunghe. Quindi un ragazzino che è in difficoltà, magari alle scuole medie, già decidere di chiedere aiuto è un passo importantissimo, non ci riusciamo noi adulti, figurati se deve aspettare tre mesi perché gli dia un colloquio l'assistente sociale o lo psicologo che è stato deputato di trattare quella classe o quella scuola. Stavo parlando un po' di tempo fa con un professore universitario, Luciano Floridi, che per esempio su questa cosa della scuola diceva che lo Stato italiano continua a tagliare fondi alle scuole e c'è sempre questo racconto del fatto che i tagli siano necessari perché non ci sono i soldi e lui diceva che questa cosa è una cosa che ci è entrata in testa, ma non è vero. Siamo comunque la decima potenza mondiale, è impossibile che non abbiamo i fondi per la scuola, è una scelta quella di tagliare i fondi alle scuole, no? E quindi raccontava un po', lui parlava di insegnamento eccetera eccetera, parlava un po' il disagio delle università italiane che è a cascata ovviamente poi anche delle scuole che non hanno soldi e ti raccontano questa cosa che non ci sono, tu finisce che ci credi perché se me lo dicono sarà così, però lui diceva no, c'è parte di scelta nel non voler investire nell'educazione, nella scuola. Un altro aspetto che non fa una bellissima figura dalle puntate che ho ascoltato è un po' quello delle forze dell'ordine soprattutto nella storia dei due ragazzi che appunto hanno dovuto cambiare casa perché loro ovviamente hanno tentato di difendersi chiamando le forze dell'ordine che però o non arrivavano o arrivavano e non risolvevano niente cioè poi capisco che non sia facile però anche quello è parte del problema. Eh lo è, loro sono stati molto critici e io ho lasciato che lo fossero infatti nella puntata successiva dove c'è poi la forza dell'ordine dove in un caso invece ha funzionato tutto abbastanza bene sì, preventivamente infatti abbiamo anche scelto di raccontare un caso non eclatante in cui c'era stata una minaccia una minaccia tra l'altro via TikTok a una città specifica che era di Miniriccione in quell'area lì e abbiamo quindi parlato di come è stata prevenuta però scusami anche lì che è una situazione gestita molto meglio sembra che sia stata gestita molto meglio perché la persona che l'ha gestita abbia anche fossero illuminata per conto suo cioè non era una struttura che funzionava per fortuna lì c'era una persona che ha gestito la situazione in un certo modo ma io devo dirti che è proprio così cioè la differenza la fanno ovviamente le persone nello specifico ad esempio la storia dei ragazzi dei ragazzi che sono dovuti scappare secondo me è legata al fatto che loro abitavano in un paese molto piccolo facevano il nome e cognome dei ragazzi che quindi conoscevano tutti che li stavano aggredendo che li stavano minacciando e le forze dell'ordine in qualche modo li hanno protetti proprio perché li conoscevano quindi se io so che tale ha 13 anni e gli rovino la vita dicono questo spesso io gli rovino la vita e quindi è come se ci fosse una sorta di limbo in cui sei immobile e non sai come agire dall'altra parte rispetto anche alla questione scolastica mi torna in mente se non ricordo male il decreto che è stato fatto l'anno scorso appunto che si parlò e non so se poi è stato attuato di una multa o di addirittura di due anni di carcere non voglio dirti che ti andate devo andare a ristudiarmela per i genitori che non mandavano i figli a scuola per tot tempo e io quando l'ho letta mi ricordo che pensai ma questo è impossibile chiunque sia stato in un paese diciamo ai margini ma anche non troppo ai margini però diciamo io penso a Scampia per esempio sa perfettamente che nessun genitore potrà mai obbligare il suo figlio ad andare a scuola cioè non è quello il punto non è il genitore che ti deve prendere e ti deve lanciare dentro la scuola il ragazzino se non ci vuole andare a scuola non ci va trova mille modi per non andarci punire il genitore non ha senso quindi anche questa mezza comprensione del fatto che la famiglia è responsabile sì ma la famiglia è responsabile dell'educazione ma lo è insieme a appunto la scuola una società che cerca di integrare tutti e a quel punto le forze dell'ordine hanno un lavoro più semplice tanto perché abbattiamo la delinquenza minorile in giro e poi perché non gli metti sempre in mano delle armi che sono sempre punitive cioè la polizia potrebbe anche fare dei corsi di formazione non è che deve per forza sempre andare in giro a arrestare la gente per dire sì Roby grazie mille ti dobbiamo già salutare però è un discorso molto interessante anche molto complicato se volete approfondire c'è il podcast Baby Gang lo trovate su tutte le piattaforme grazie mille Roby per essere passati a trovarci